Ben trovati all'ascolto del nostro telegiornale, apriamo parlando dell'insediamento della procuratrice Gambino per la procura di Siracusa, programmato l'insediamento per martedì 27, vediamo. Si insede ufficialmente martedì la procuratrice Sabrina Gambino, la nota congiunta del Consiglio Superiore della Magistratura del Ministero della Giustizia è giunta ieri mattina negli uffici di Viale Santa Panagia per cui il nuovo procuratore capo di Siracusa può prendere possesso del suo nuovo ufficio al quinto livello del Tribunale lasciando libero il posto di sostituto procuratore generale a Catania. Il nuovo procuratore prende il posto di Francesco Paolo Giordano che nel mese di settembre dello scorso anno è stato trasferito su propria richiesta alla procura generale di Catania. Il nuovo procuratore arriva dopo che l'ufficio requirente a Reduseo ha attraversato un periodo di grandissime tribolazioni giudiziarie culminate con l'arresto dell'ex PM Giancarlo Longo, tuttora detenuto nella casa di reclusione del Re Bibbia a Roma per scontare una pena definitiva a seguito di patteggiamento nell'ambito dell'inchiesta coordinata alla procura di Messina denominata Sistema Siracusa. La procuratrice Gambino che alla fine del mese di luglio ha avuto modo di prendere i primi contatti diretti con i magistrati in servizio alla procura con il personale della polizia giudiziaria e con quello amministrativo riceverà il passaggio e le consegne dal procuratore aggiunto Fabio Scavone che ha arretto l'ufficio dal giorno del trasferimento di Giordano a Catania traghettando di fatto la procura alla nuova guida. Uno dei primi problemi da affrontare è legato alla carenza dei pubblici ministeri. Ad oggi ne sono in servizio 11 ma più in presto con il trasferimento del PM Marco Di Mauro alla procura di Milano il numero del sostituto di procuratori scenderà a 10 su un minimo tabellare di 13 unità. Su questi magistrati prendono migliaia di fascicoli a testa e devono fare fronte a un centinaio di processi già arrivati in dibattimento. La cerimonia in sedimento avrà luogo martedì mattina nell'aula di Corte d'Assise e con la presenza del Presidente della Corte d'Appello di Catania Giuseppe Emeliadò del procuratore generale di Catania Roberto Saieva. Parliamo adesso di una zona della città, parliamo della Via Algeri, una zona che per anni è stata curata da chi appunto nell'intervista adesso fa la denuncia come Via Algeri sia peggiorata negli anni. Vediamo. Siamo nel parco di Via Algeri, quello che dovrebbe essere un polmone verde del popoloso rione di Mazzarrona. Dal 2013 al 2018 a gestirlo è stata l'associazione Pro Via Algeri, poi nel 2018 avete detto basta, non vogliamo più gestire questo parco. Perché? Perché? Perché per cinque anni io ho gestito questo parco nel migliore dei modi, l'ho portato all'essere, testimonianza dei vari servizi che voi avete fatto, poi è salito questo nuovo sindaco e non combaciavamo con la sua politica o la mia politica. Allora ho fatto un basso indietro, ho detto se voi mi dovete rinnovare per altre tre anni questo parco è giusto che dovete spendere dei soldi perché il parco e soprattutto l'asilo è molto faticente. Io ricordo che nel 2014 fu danneggiato l'asilo, furono rubati tutti i colori, i giocattoli dei bambini. Bene, la mia associazione Pro Via Algeri insieme a altre associazioni abbiamo acquistato per il valore di 500 euro di materiale didattico e giocattoli per l'amore dei bambini e per poter mandare avanti questo asilo. Avevo chiesto la videosorveglianza al comune ma con tutte le procedure che c'erano da fare ho preferito comprarle io di tasca mia, quindi avevo montato anche le telecamere per dare servizio, per non far sì che i ragazzi venivano a fare danneggiare eccetera eccetera. Insomma in cinque anni ero riuscito ad educare bene chi veniva in questo parco e avere rispetto per il parco di via Algeri. Dopodiché io ho chiesto ai competenti di poter fare delle riparazioni soprattutto nella strada del parco che è ondulata da tutte queste radici degli alberi, di ristrutturare la scuola a meno di fuori perché è tutto a pezzi e mi è stato detto no il comune non ha più soldi quindi te lo devi vedere tu. Io ho fatto un basso indietro e ho detto io non ho più intenzione di continuare a mantenere questo parco con i miei soldi, in campagna elettorale si è sempre parlato di periferie, periferie, periferie e dal giorno che è entrata questa nuova giunta comunale la prima cosa che è stata fatta negativa per il nostro quartiere è la chiusura della scuola di via Algeri, peraltro una delle poche scuole di Siracusa antisismiche, l'unica istituzione dello Stato in via Algeri è stata la lotta, ora io non voglio che anche questo asilo venga chiuso. Lei si riferisce naturalmente all'asilo che c'è all'interno del parco, asilo che è frequentato da bambini, hai aperto regolarmente? Sì sì è regolarmente aperto, però ora vedendo tutti questi danni mancano le luci esterne, si sono portati i tombini dove c'è la corrente che passa la 380 per i pali dell'illuminazione. Ora io dico come si fa ad aprire questo asilo in queste condizioni, anche perché voglio ricordare che le maestre quando ci sono le belle giornate, perché in bambini vengono esposti fuori nel parco perché il parco viene chiuso, quando c'è il servizio dell'asilo il parco non viene aperto pubblicamente, però che certezza abbiamo di questi bambini che si possono fare male, cadere dentro un bozzetto che manca oppure ingiambare su questo dislivello di questa strada che c'è qua? Il Consorzio Industriale Protezione Ambiente ci tiene a rassicurare soprattutto a avere più comunicazione con i cittadini. Questa la dichiarazione del nuovo presidente del CIPA Mario Lazzaro, ascoltiamolo. Mario Lazzaro, presidente del CIPA di Siracusa, chi meglio di lei può darci dei dati riguardo a ciò che è stato diffuso sull'inquinamento ambientale del nostro territorio? Che tipo di rassicurazioni può darci? Noi studiamo da tantissimi anni i fenomeni dell'aria e della qualità dell'aria. Ovviamente l'aria si è modificata in questi 30 anni riducendosi praticamente o addirittura abbassandosi drasticamente moltissimi tra gli inquinanti normati. Sull'SO2 i valori sono andati scendendo di 30 punti, quindi oggi non abbiamo nessun livello di preoccupazione né per l'ambiente e soprattutto per la salute umana. I valori di allarme sono più alti di 10 volte, quindi rispetto a questo tema sinceramente credo che da tecnico non si possa che dire stiamo tranquilli, non ci sono problemi. Ecco a chi ha diffuso questi dati allarmanti è anche perché Siracusa spesso la mattina si sveglia sotto un cattivo odore. Tuttavia bisogna fare le verifiche caso per caso. Ci sono in chimica tante cose che non danno odore, che sono molto pericolose e viceversa i composti spesso, per esempio quelli solforati, hanno degli odori fastidiosi, molesti e magari sono meno insidiosi dal punto di vista del pericolo per la salute di altri che appunto odore non ne fanno o addirittura persino fanno in qualche caso odori gradevoli. Però questo è un discorso complesso, lungo, che va analizzato di volta in volta. Quello che è sicuro è che adesso abbiamo una possibilità che io tento di inaugurare nel prossimo ottobre con una giornata che dedicheremo all'ambiente, faremo venire degli esperti di livello nazionale che ci racconteranno molte cose, che ci parleranno anche di epidemiologia. Insomma io credo che sarà buono di confrontarci, di guardare a questo tema magari inducendo una nuova consapevolezza. Avremo bisogno di quelli che fanno la comunicazione come voi, che sapete tradurre quello che noi come tecnici possiamo solamente elencare, magari mettendoci dentro tanti numeri. Ecco in autunno il CIPA è sempre più presente a livello comunicativo su Siracusa, in che modo? Il CIPA sta lavorando da un anno a questa parte per riuscire a modulare una comunicazione più coerente, più vicina, più puntuale. Ci stiamo attrezzando rispetto a questo tema anche facendoci aiutare da cosiddetti esperti. Il tema della comunicazione centrale, la possibilità di arrivare ai cittadini e di dire delle verità che vanno appresso ai numeri, secondo me è una cosa buona e una cosa giusta, consente di autoregolarsi per quanto attiene per esempio ai produttori e consente anche di capire bene e di avere consapevolezza per quanto riguarda i cittadini, altrimenti diventano risposte emozionali che secondo me non fanno bene al territorio e nemmeno alla popolazione. Ecco lei da poco è il nuovo presidente del CIPA, che situazione ha abbracciato? Dal punto di vista tecnologico questa struttura è una struttura definibile in maniera molto semplice come un gioiellino, in grado di fare una marea di misura con attrezzature di ultima generazione che sono state, devo dire, riprese e riportate a un livello tecnologico alto negli ultimi 3, 4, 5 anni. Dal punto di vista organizzativo i ragazzi e i tecnici sono molto validi, dobbiamo lavorare per fare in modo che il loro sapere quello che fanno tutti i giorni emerga e venga raccontato. Io batto su questo, bisogna raccontare quello che facciamo e cercare di fare capire che siamo delle persone e che cerchiamo di farlo bene, siamo dei lavoratori. Da lunedì gli operai della Sirem, l'azienda che si occupa dei lavori stradali in città, si sposteranno in Contrada Targia per la messa in opera dei dissuasori di velocità e tutto un sistema di sicurezza per diminuire gli incidenti in una zona purtroppo dove è stato di incidenti anche mortali. Vediamo. Ancora interventi sulle strade siracusane. Dopo i lavori per riorganizzare la sosta delle auto in via Francesco Guardi e la conclusione della posa dei dissuasori in riviera Dioniso il Grande, lunedì gli operai si sposteranno a Targia per cominciare i lavori per l'installazione dei sistemi di controllo della velocità. I soldi per questo intervento sono stati prelevati dal fondo di riserva del sindaco. Si tratta, spiega il primo cittadino, di attività programmate da tempo e per le quali siamo riusciti a trovare le somme per un lavoro urgente come quello nel caso di Targia, teatro di incidenti stradali anche molto gravi spesso dovuti all'alta velocità. Entro poche settimane quindi installeranno moderni sistemi che consentiranno di rilevare e controllare la velocità così da imporre rispetto dei limiti. Contemporaneamente, conclude il sindaco Francesco Italia, inizieremo con il ripristino delle strisce pedonali sempre più sbiadite in molte strade della città. Il cantiere in Contrada Targia sarà aperto quindi da lunedì dalla Siram, l'impresa che per il comune si occupa di lavori stradali, interventi urgenti in regime di reperibilità e impianti elettrici degli edifici pubblici. Il costo affrontato dall'amministrazione è di circa 40.000 euro. Nel tratto compreso tra Viale Scala Greca e la rotatoria di Contrada Spalla, in entrambe le direzioni, sarà installato il sistema di controllo elettronico della velocità con relativi segnali luminosi e quello che rileva l'andatura tenuta dai mezzi in transito, completo di display luminosi collocati ai lati della carreggiata e visibili agli automobilisti diretti verso Priolo e Siracusa. Per tutta la durata dei lavori ci saranno restringimenti della strada. Per quanto riguarda le strisce pedonali, l'intervento di ripristino inizierà da quelle vicino ai plessi scolastici. Ci fermiamo adesso per la pubblicità ma vi aspettiamo per la seconda parte del nostro telegiornale durante la quale parleremo di cronaca e anche del vasto programma per le celebrazioni dell'anniversario della Madonnina delle Lacrime di Siracusa e poi si parlerà anche della messa in onda dell'Ortigia Film Festival 2019 su Rai 1 programmata per lunedì 26. Tutto questo dopo la pubblicità. Ben trovati alla seconda parte del nostro telegiornale andiamo a parlare di cronaca in particolare di una rapina avvenuta ieri sera intorno alle 22 in via Archia in un salone di parrucchiere. Vediamo. Ha arraffato poche decine di euro l'uomo che nella tarda serata di ieri ha messo a segno un furto con scasso ai danni di un salone da parrucchiere. L'episodio è avvenuto intorno alle 22 di ieri sera in via Archia a due passi del centralissimo Corso Gelone. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti delle volanti il malvivente ha utilizzato lo scooter su cui viaggiava come ariete per mandare in frantumi la porta a vetri del salone. Una volta sfondato la porta è entrato e arrovistato nel registratore di cassa da dove ha prelevato una quarantina di euro prima di darsi alla fuga. Gli investigatori stanno adesso verificando le immagini delle telecamere della videosorveglianza per individuare il responsabile del furto di denaro. Ancora cronaca parliamo di un arresto di un 24enne perché appunto deteneva in casa cocaina ai fini di spaccio. Gli agenti della squadra mobile di Siracusa hanno arrestato il siracusano Gian Claudio Assenza di 24 anni già noto alle forze dell'ordine poiché è colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e violazione degli obblighi della sorveglianza speciale. L'uomo a seguito di perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 7 confezioni termosaldate di cocaina del peso complessivo di 9 grammi, un bilancino di precisione, ritagli di buste di cellofan di forma circolare usati per il confezionamento dello stupefacente, due manoscritti riportanti, cifre di denaro e nomi di presunti acquirenti, un cucchiaino con tracce di stupefacente, 10 cartucce inesplose calibro 9x21, una cartuccia sempre inesplosa calibro 9x19 e ancora 490 euro presunto provente dell'attività di spaccio. Gian Claudio Assenza inoltre ha violato gli obblighi della sorveglianza speciale poiché all'interno del suo appartamento è stato trovato in compagnia di un noto pregiudicato ed è stato denunciato per il possesso delle cartucce. L'indagato è stato poi posto in regime di arresti domiciliari. Parliamo adesso del comune di Noto condannato al risarcimento danni ad una ditta, vediamo. Il comune di Noto è stato condannato al risarcimento dei danni nei confronti di un'impresa per la mancata stipula del contratto relativo all'affidamento del servizio per la realizzazione di un sistema integrato di applicazioni digitali. Si tratta di un'iniziativa per la promozione turistica del distretto del sud-est denominato Storytelling racconta il sud-est, un progetto affidato alla ditta Datanet SRL con determina dirigenziale del 20 luglio 2015. La sentenza è stata emessa dalla prima sezione dell'attare di Catania che ha accolto il ricorso della Datanet a cui il comune di Noto ha dapprima giudicato il servizio. Dopo aver prodotto la documentazione richiesta dal comune predisponendo all'organizzazione del servizio, il comune stesso non ha provveduto alla stipula del contratto comunicando l'11 agosto 2016 di non essersi attivato tempestivamente e per tale ragione di avere perso il finanziamento regionale. La ricorrente ha quindi chiesto un risarcimento dei danni subiti per un importo di 14.000 euro. Il Tar ha ritenuto che sia stata fornita prova inequivoca della colpa dell'amministrazione comunale in quanto dalla documentazione che promano dello stesso ente risulta che a questi non è addivenuto alla stipula del contratto a causa dell'ispiegabile ritardo del comune degli adempimenti. Anniversario della lacrimazione della Madonnina delle Lacrime di Siracusa. Il santuario ha stilato un vasto programma. Sentiamo qual è. Sono iniziate ieri le celebrazioni per il 66esimo anniversario della lacrimazione della Madonna a Siracusa. Tanti gli appuntamenti in programma tra celebrazioni eucaristiche ed eventi collaterali. Questa sera alle 20.30 nella cripta del santuario ci sarà la rappresentazione teatrale dal titolo Lo Stato contro Gesù, indagine sul risorto. Domani alle 19 padre Aurelio Russo celebrerà la Santa Messa con la benedizione del cotone che sarà poi distribuito ai fedeli. Lunedì alle 20.30 ci sarà Cantiamo a Maria, l'omaggio alla Madonna delle Lacrime. Martedì sera, sempre alle 20.30, è in programma la processione au flambeau che partirà da Piazza Duomo con una copia del quadretto della Madonna. Mercoledì 28, dopo la Santa Messa delle 19, il santuario rimarrà aperto fino alla mezzanotte. La veglia poi continuerà nella Casa del Pianto, in Via degli Orti numero 11. Il 29 di agosto, Su Eccellenza Monzio Cristina, arcivesco di Catania e Presidente della Cesi, firmerà il decreto con cui si stabilisce che il santuario Madonna delle Lacrime è un santuario regionale. Poi il decreto andrà in vigore dal 1 settembre e sarà una data storica perché l'arcivesco di Catania viene appositamente per apporre la firma su questo decreto. Ogni anno il 1 settembre celebrano la Santa Messa persone molto vicine al Papa, ma Papa Francesco verrà prima o poi a Siracusa. C'è qualcosa di concreto magari, qualche invito? Monsignor Fisichella è molto molto vicino al Papa, tanto che il Papa lo ha scelto per organizzare il Giubileo della Misericordia che si è celebrato non solo nel Vaticano, non solo a Roma, ma in tutto il mondo. Quindi sì, persone vicine al Papa vengono. Anche il Papa ha espresso così, se vogliamo, il desiderio di venire a Siracusa quando io l'ho incontrato e gli ho detto, Santo Padre, la Madonna è venuta a visitarla con le sue lacrime e speriamo che il Papa possa trovare uno spazio per poter venire a Siracusa. Lui mi ha risposto speriamo di poter venire perché è tutto nella provvidenza di Dio che si può realizzare. Il Papa ha tanti impegni, il Papa pensa a tutto il mondo e poi vediamo come il Papa pensa a tutto il mondo ma pensa a ciascuno, per ciascuno ha un'attenzione particolare. Se è nella provvidenza e nella volontà di Dio noi lo accoglieremo con molta gioia. Ortigia Film Festival, la chermesse cinematografica che si è svolta quest'estate ad Ortigia sarà trasmessa in un reportage sul Rai 1 lunedì 26 dalle 23 e 50. Sentiamo di più. Andrà in onda sul Rai 1 lunedì 26 alle 23 e 50 il reportage sull'undicesima edizione di Ortigia Film Festival, la chermesse cinematografica che si svolge ogni anno nell'isola di Ortigia e che anche per quest'anno ha arricchito il centro storico di Siracusa nonché patrimonio dell'UNESCO. Il reportage è un viaggio attraverso le parole e le sensazioni degli attori, dei registi e degli ospiti che si sono avvicendati e ripercorrere una settimana intensa di preparazioni, incontri, proiezioni ed eventi, dando proprio la parola ai protagonisti. Da Mogol a Valeria Solarino, da Noemi a Fabio Lovino, da Milena Vukotic a Miriam Leone, gli ospiti ed i giurati di Ortigia Film Festival si sono raccontati a gioia Marzocchi in un viaggio attraverso il cinema italiano e dentro le meraviglie architettoniche e paesaggistiche che l'isola di Ortigia riesce ad offrire. Il reportage è prodotto dall'Associazione Culturale Salirò, scritto da Lisa Romano e Maria Pia Pezzali, regia di Lisa Romano. Appuntamento quindi a lunedì 26 sul Rai 1 alle 23.50 per rivivere Ortigia Film Festival 2019. Questo servizio chiude il nostro telegiornale. Noi vi ringraziamo per l'attenzione. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie a tutti.